di nuovo guardate cosa abbiamo appena trovato la perfezione ciao di nuovo ragazzi ancora tutta roba piccola oggi fresca tutta roba da sott'olio uno spettacolo due un altro qua tre un altro oh l'ho rotto pistola io si mi è scivolato mi sono bagnato un altro qua nessuno non lo so neanche quattro cinque questo un altro qua c'è un altro la dietro aspettate che lo prendano qua vale tu di lì come sei messa vai a vedere quelli della vale ma sono proprio minuscoli no poi c'è l'altro che si trova qua dietro c'è troppo è passato di qua non hai visto questo guardalo questo che bello inquadralo eccolo qua ragazzi uno uno due tre quattro questo l'ha mangiato cinque sei sette otto nove e non so quanti altri ciao di nuovo ciao ragazzi funghi vieni a vedere vale allora uno due tre quattro e cinque ripresi tutti tutti adesso me li prendo io però ciao perché non c'è tanto allora bisogna ricercare e allora poi quando si ricerca ogni tanto ti compaiono questi questi qua questi qua questi qua che non sono male adesso vi faccio vedere la raccolta guardate che meraviglia ecco qua ancora bello bianco bello va bene a dopo ragazzi la ricerca del fungo continua sempre sulla strada ma che spettacolo questo è davvero bello guardate qua c'è il gambone bianco ciao oggi ci vuole il binocolo qua mamma mia piccolissimi no danni piccolissimi danni questo non è tanto piccolissimo ma che il gambone bianco come il latte e beh va bene ciao dai inquadra qua uno meraviglia bianchi 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 due e forse ce n'è un altro forse vediamo se è lui no non è lui sono tutti dai boschi e ci siamo di nuovo oggi siamo andati bene qui vi faccio vedere questi due appena trovati meraviglia delle meraviglie uno e due belli eh ciao adesso stamattina nessuno che aveva voglia di dormire abbiamo detto facciamo un giro nel bosco cioè ancora è buio buio buioissimo cioè tanto per rendere l'idea vieni vieni da papà vieni meraviglia ciao a dopo ragazzi che dire adesso stavolta me ne devo andare a casa per forza credibile mai vista una roba del genere in svizzera in pieno prato in pieno prato guardate che porcino mamma mia incredibile sembra piccolo vero sembra piccolo questa è la mia mano ma non so ma come ha fatto uscire non ci sta nel telefono arrivo arrivo ragazzi boh penso che poi ne posso andare a casa incredibile ma è incredibile credo che posso andarmene a casa guardate il gambo com'è è un po' maturo ma ragazzi miei va bene ciao ciao uno e lo mettiamo qua poi bisogna guardare attentamente perché sono molto nascosti molto nell'erba due oh bellissimo andiamo avanti ah qua si questo è piccolino piccolino stiamo vedendo quello adesso tre andiamo avanti non sono più estatini eh ragazzi sono edulis ormai eh poi qua ce n'è uno che dovrebbe essere più bella vedersi così eccolo qua va quattro mamma mia che splendore via tu quattro la taglia è anche discreta vediamo se ce n'è ancora vediamo 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 qua eccolo qua tutti belli nascosti eccolo qua cinque bello anche questo bocciottino poi basta credo vale per ora basta ciao guardate ragazzi che pinicola che gambo mamma mia vediamo spettacolare ma che fungo questo ottimo pezzo eccoci qua guardate come saltano fuori questi bellissimi pinicola fantastico allora ce ne stiamo andando no abbiamo già uno zaino pieno non dico il peso perché non mi piace spandere spendere non mi interessa non è mio interesse però ce ne stiamo andando no allora la vale mi dice ma io sono passato davanti a te cioè dietro di te e guarda che cazzo lasci e non li puoi lasciare come cazzo fai a lasciare oh ragazzi allucinante una roba allucinante mamma che porcino ma bianco come il latte oh è da solo e non è neanche da solo perché qua c'è il suo fratellino qua mamma mia oggi no no è meglio che ce ne andiamo guarda ehi muo strappo la montagna boh qua no non si possono lasciarli come si fa a lasciarli vabbè ciao ciao ragazzi bello ponderoso peccato che hanno iniziato già a mangiarlo però fa la sua scena mamma mia ragazzi guarda qua spettacolo oggi ciao ciao filmato per gli amanti del genere big guardate qua guardate qua sarò un 3 metri eh mi avvicino grandi a chi piacciono quelli grossi buongiorno boschi solito lì la strada guarda inquadra la strada ok qui c'è la discesa che scende giù dal bosco e guardate cosa c'è qua eccolo qua bello questo è davvero bello avanti guardate che fumo guardate che fumo non ha un segno e c'è anche suo fratello che presumo sia allo stesso livello e qui mannaccia un po' sotto però un'altra bomba a mano eccolo qua va bene per quest'anno è tutto arrivati adesso questa è la strada da dove siamo venuti sono entrato sono posteggiato qua vedete la macchina vale inquadra la macchina bene vale che la passeggera scende e mi dice ma salvo è andata di straculo che non l'hai schiacciato con la macchina eccolo eccolo lo presento eccolo qua ciao a tutti stiamo trovando qualcuno in più purtroppo uno l'abbiamo schiacciato che non l'abbiamo visto uno in marcio due sono buoni comunque non ci lamentiamo vi faccio vedere qua un bocciotto meraviglioso croc eccolo qua uno è da cartone animato questo poi questo è quello che abbiamo schiacciato purtroppo se ne salva ben poco però almeno il gambo lo teniamo su e poi c'è uno un pochino migliore vale inquadra qua vale eh gambone questo è della taglia già un pochino più soddisfacente mamma mia è inchiodato croc croc eccolo qua in tutta la sua bellezza va bene andiamo avanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti